Il marketing è la scienza che studia come vendere. E ricordo tanti anni fa, in un viaggio che ho fatto negli Stati Uniti, proprio negli anni del seminario, allora gli Stati Uniti erano molto più lontani da noi, dal punto di vista dell'immaginario rimanevano un po' un posto sconosciuto. E ricordo fui impressionato dalla quantità, perché uno dei postulati del marketing dice che per vendere una cosa devi mettercene tanta sugli scaffali. E a volte avevo come l'impressione, entrando in certi negozi, di essere travolto da queste merci che volevano essere vendute a tutti i costi e ce ne erano in quantità inimmaginabili, come se tutto il mondo dovesse comprarle. Gesù non è un venditore, non ha studiato marketing. Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo, un pizzico di sale. Una luce che assomiglia più a quella di una candela che a quella di un faro. Ci ribalta nella nostra concezione del mondo. Per certi versi mi sembra di riconoscere quello che poi Pascal disse esplicitamente, cioè che il criterio della carità è un criterio che sovrasta in modo incommensurabile quello della quantità, ma non appunto con la logica della forza, del numero, della grandezza, ma con la logica della carità di Dio, dell'amore. Ecco, noi che sentiamo talvolta di essere insufficienti, di aver bisogno di avere chissà che cosa, anche come Chiesa, siamo continuamente spronati da Gesù ad essere un pizzico di sale. Questo è tutto quello che il mondo ha bisogno per mettersi in cammino. Buona giornata a tutti.